Lo scorso 10 agosto, mercoledì, la Guardia Costiera di Venezia, attraverso il nucleo regionale Ispettori Pesca, in collaborazione con il nono Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima del Veneto e il Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati, della locale azienda sanitaria, ha svolto un'operazione di polizia lungo la filiera ittica presso uno stabilimento all'ingrosso, deposito frigo, nella provincia di Padova. Durante l'attività di ispezione sono state scoperte oltre tre tonnellate di prodotti ittici e derrate alimentari di varia natura, in condizioni igienico-sanitarie non idonee, prodotti preconfezionati con date di scadenza o termini minimi di conservazione superati. Questi erano detenuti promiscuamente insieme ad altri generi alimentari conformi, violando le procedure di autocontrollo HACCP. L'ingente quantità di prodotti ittici e alimentari, stimata in oltre 3.000 kg con un valore approssimativo di circa 50.000 euro, è stata posta sotto sequestro amministrativo. I prodotti sequestrati saranno smaltiti come sottoprodotti di origine animale categoria 3 da parte di un'azienda autorizzata, con la conseguente emissione di un apposito formulario. Oneri e spese relative al processo di smaltimento saranno a carico dell'interessato. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota, chiamando il 349 875 75 79. £ по hash di interessatur dell'interazione per 200-ferno. Prenota, prezera bianche components? Pu B